Operatività 50% Inizia l'attenzione verso la mia cura personale Per arrivare in piena salute fisica Io sono stato sul ciglio tre volte Sono stato ricoverato per laryngospasmo Si chiude la gola Si chiude la valvola della gola Non respiri più Pensi di morire Tre volte ho detto mai più Ero 110 kg Diabete Altre cose Io ho avuto il diabete Curatevi Esami ogni quattro mesi Faccio 50 esami ogni quattro mesi Li mando a sei dottori Dal più pessimista Al più ottimista E mi fermo sul terzo Che è quello che ha sempre ragione